«Come faccio a spiegarmi con me stesso?» pensava quando gli capitava di pensare. «Questa non può essere depravazione, il vizio volgare e onnivoro. Quello raffinato presuppone l'appagamento. Che importa se ho avuto cinque o sei relazioni normali, come si può paragonare la loro insulsa casualità con la mia specialissima fiamma?» «E allora? Non è certo la matematica della lussuria orientale, ove la tenerezza della preda è inversamente proporzionale alla sua età. O no, per me non si tratta di una generica gradazione, ma di qualcosa del tutto estraneo al generico, di un valore non soltanto più grande, ma inestimabile. E cos'è dunque?» «Galattia, criminalità. E poi è compatibile con la conoscenza e il pudore, con la ripugnanza e la paura, con l'autocontrollo e la sensibilità. In quanto non posso nemmeno concepire di provocare un dolore o un ribrezzo indelebile. Via, non sono un corruttore. I limiti che ho stabilito per le mie brame, le mascore che invento per esse, escocitando nella vita quotidiana un sistema assolutamente invisibile per saziare la mia passione, sono di una sofisticheria provvidenziale. «Non rubo con scasso, solo dalla tasca. Anche se forse, in un'isola circolare con la mia piccola venerdì, non sembrerebbe semplicemente una questione di sicurezza, ma la licenza di inselvatichirsi. O forse si tratta di un circolo vizioso, con una palma al centro, consapevole, se uso la ragione che l'albicocca delle eufrate è nociva solo se viene messa in scatola, che il peccato è inseparabile dal costume civile, che ogni igiene ha le sue iene, colpevole inoltre che quella stessa ragione non è schiva di volgarizzare cose che altrimenti le sono vietate. Ora scarto tutto questo, e mi innalzo a un livello superiore. Se, invece, la via dell'estasi passasse davvero per una delicata membrana, ancora soffice e glabra, che conserva ancora la fragranza e la lucentezza attraverso cui si penetra fino alla palpitante stella di quell'estasi. Perfino entro questi limiti, procedo con raffinata selettività. Non mi sento attratto dalla prima scolare che passa, tutt'altro. Quante se ne vedono, in una grigia strada mattutina, che son tozze, magroline, occhialute, o hanno un vezzo di foruncoli. Quelle mi interessano tanto poco, nel senso amoroso, quanto una paffuta conoscente adulta potrebbe interessare un altro. Comunque, a prescindere da ogni sensazione particolare, mi sento a mio agio con i bambini in generale. In tutta semplicità, so che sarei un padre appassionato, nel senso comune della parola, e ancora oggi non riesco a capire se ciò rappresenta un naturale complemento, oppure una demoniaca contraddizione. Qui faccio appello alla legge delle gradazioni, che ho ripudiato, quando la trovavo insultante. Presso ho cercato di cogliere me stesso, nella transizione dal primo tipo di tenerezza al secondo, da quella comune a quella particolare. E mi piacerebbe proprio sapere, se si escludono reciprocamente, e devono, dopo tutto, essere assegnate a generi diversi. Oppure se l'una rimane la rarissima fioritura dell'altra. Nella notte di Valburga della mia anima tenebrosa. In quanto, se sono due entità distinte, devono esistere anche due specie di bellezze. Il senso estetico, invitato a cena, rovina la terra tra due sedie, che è il destino di ogni dualismo. L'altra parte, il viaggio di ritorno dal particolare al comune, lo trovo un po' più comprensibile. Il primo si sottrae, per così dire, quando è saziato. E che sembrerebbe indicare che la somma delle sensazioni sia di fatto omogenea, se qui fossero davvero valide le regole dell'aritmetica. È strano. E forse il più strano di tutto è che col pretesto di discutere qualcosa di straordinario, non faccio altro che cercare una giustificazione per la mia colpa. Così, più o meno, si rimescolavano i suoi pensieri. Era fortunato ad avere un mestiere raffinato, preciso e piuttosto redditizio, che gli rinfrescava la mente. Gli saziava il senso tattile e gli nutriva la vista con un punto luminoso sul velluto nero. C'erano cifre qui, colori e interi sistemi cristallini. A volte la sua fantasia rimaneva incatenata per mesi, e solo di rado quella catena tintinnava appena. E poi, arrivato a quarant'anni, ed essendosi tormentato a sufficienza con il suo sterile sacrificio di sé, aveva imparato a regolare la sua brama, e si era rassegnato, ipocritamente, all'idea che soltanto un fortunatissimo insieme di circostanze, una mano di carte del tutto inavvertitamente distribuitegli dal destino, poteva accordargli un'immagine fugace dell'impossibile. La sua memoria custodiva gelosamente quei pochi segreti, con gratitudine melanconica. Gli erano stati, dopo tutto, concessi. E melanconica eronia. Lui aveva, dopo tutto, ingannato la vita. Così, quando ancora era studente al Politecnico, mentre aiutava la sorella minore di un compagno di classe, una ragazza sonnolenta, pallidina, con uno sguardo vellutato e di tracce nere, a imbutirsi di geometria elementare, non la sfiorò nemmeno una volta. Ma già la vicinanza del suo vestito di lana bastava far tremare, e dissolversi le righe sulla carta, per far spostare tutto in una dimensione diversa, al ritmo di un trotto teso e clandestino. E dopo c'era di nuovo la dura sedia, la lampada, la scarabocchiante scolara. I suoi altri colpi di fortuna erano dello stesso laconico genere. Una piccola era quieta, con un ciuffo sull'occhio, e in uno studio, tutto cuoio, dove lui aspettava suo padre. Il martellamento del petto. Dimmi, soffri il solletico? O quell'altra, con le scapole color pan di zenzero, che gli mostrava, sull'angolo cancellato da un tratto d'ombre di un cortile soleggiato, dell'insalata nera, intenta a divorare un coniglio verde. Erano stati momenti pietosi e affrettati, separati da anni di cammino e di ricerca. Eppure per ognuno di questi momenti, lui avrebbe pagato qualsiasi prezzo. Gli intermediari, comunque, erano pregati di astenersi. Ricordando quelle rarità estreme, quelle sue piccole amanti che non si erano mai, nemmeno accorte delle manovre dell'incubo, li meravigliava anche di com'era rimasto misteriosamente ignaro del loro destino successivo. D'altra parte, quante volte, in uno squallido prato, su un volgare autobus cittadino, o su di una sabbia marina buona solo per alimentare una clessidra, era stato ingannato da una scelta fosca e frettolosa. Le sue suppliche erano state ignorate dal caso, e il diletto dei suoi occhi, e il diletto dei suoi occhi, interrotto da una svolta non curante della vita.